Wasteland, per tradurlo letteralmente terra dei rifiuti, è il titolo del documentario che state per vedere. È un documentario che è stato presentato nel 2010 dopo più di tre anni di registrazioni. È un film che è dedicato a una delle più grandi discariche al mondo, che è stata chiusa nel 2012, e alla pratica artistica di Vic Muniz. Vic Muniz è un artista brasiliano cresciuto nelle favelas, che ha avuto una particolare occasione per poter cambiare la sua vita, ovvero durante un letigio è stato colpito da una pallottola e grazie alla sua richiesta di risarcimento d'anni è riuscito a mettere da parte una somma sufficiente per poter cambiare vita, pagare un biglietto e trasferirsi negli Stati Uniti, dove ha potuto formarsi, è potuto andare a visitare dei musei, a conoscere altri artisti. La sua pratica si contraddistingue per l'utilizzo di ingredienti molto semplici, come lo zucchero, la cioccolata, lo sciroppo, e con questi ingredienti lui realizza e ridisegna alcuni capolavori della storia dell'arte, tra cui vedrete alcuni di Goya oppure di David, vedrete anche la riproposizione di alcune fotografie molto note, come quella di Jackson Pollock mentre fa uno dei suoi dripping. Come vi dicevo, questo documentario è dedicato sia a Vic Muniz, uno degli artisti attualmente più quotati, e a questa grandissima discarica. Gli anni dedicati alla registrazione di questo film, alle riprese di questo film, sono gli anni in cui Muniz progetta una nuova serie di opere. Sposta il suo studio nelle vicinanze di questa discarica ed inizia ad intervistare delle persone, una serie di uomini e donne che quotidianamente si recano alla discarica e si arrampicano letteralmente su grandi montagne di rifiuti per poterli smistare, riciclare, rivendere, riutilizzare in prima persona. Con queste interviste piano piano entreremo nelle vite di queste persone, entreremo nelle loro case, nelle loro storie, spesso drammatiche, tragiche, e oltre a entrare noi nelle loro vite, loro entreranno a far parte delle opere d'arte di Vic Muniz. Sì, perché lo aiuteranno anche proprio nella loro realizzazione e saranno anche protagonisti, nel senso che saranno il soggetto di alcune delle sue opere. Quindi Vic Muniz passa da dedicare il suo tempo e la sua arte a Goya fino a queste persone che forse, se Goya è uno degli eroi della storia dell'arte, loro sono degli eroi del nostro tempo. Vedremo anche come è possibile raccontare per immagini le diverse fasi di un'opera d'arte, quindi noi seguiremo Vic Muniz dall'ideazione di questa serie di progetti, alla progettazione, alla produzione, alla presentazione al pubblico, fino alla vendita. Io vi lascerei con una domanda. Alla fine della visione di questo film, provate a pensare. Cosa ne pensate voi? L'arte può essere utile? Questo è un progetto che si potrebbe tranquillamente definire come un progetto umanitario. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona visione. Grazie.